La presenza ad Autopromotech 2019 per Ufi Filters, azienda leader globale per caratteristiche innovative dei prodotti impiegati in molteplici settori. L'azienda conferma la sua posizione di leadership nella filtrazione, in particolare in aftermarket nel 2018 come business unit, registrando una crescita globale del 10%, con un fatturato di circa 90 milioni di euro, che rappresenta quasi il 25% del totale del gruppo. Il gruppo Ufi è un gruppo sempre in costante crescita, in aftermarket abbiamo ottenuto risultati importanti l'anno scorso, abbiamo target importantissimi anche per quest'anno, nel 2019 prevediamo una crescita del 14%, per cui importante rispetto a un mercato abbastanza stagnante. La Ufi si sta posizionando con nuovi plant produttivi in giro per il mondo, oggi abbiamo 16 stabilimenti, quest'anno inaugureremo altri 3 stabilimenti completamente nuovi. Il primo sarà a Chongqing, nel centro della Cina, dove andremo a fornire, come di tradizione nostra, tutti i primi impianti locali e a seguire il primo impianto locale verrà anche tutta la gamma aftermarket per il mercato cinese. Il secondo stabilimento che andremo a inaugurare quest'anno in ottobre si trova in India, uno stabilimento particolarmente dedicato all'aftermarket, oggi abbiamo due stabilimenti in India, questo sarà il terzo e sarà specializzato su prodotti aftermarket per il mercato sempre locale. Il terzo sempre quest'anno sarà in Messico, un'area strategica per noi. In fiera quest'anno siamo molto orgogliosi di presentare Ufi Argentium, Ufi Argentium è la rivoluzione come è stata il multitube, come è stata il DFM in passato sulla filtrazione carburante e filtrazione aria, è la rivoluzione tecnologica e innovativa sulla filtrazione aria-abitacolo. Anzitutto il nome viene da Argento, in quanto una delle caratteristiche fondamentali di questo filtro è il fatto che contiene delle particelle di Argento e a differenza degli altri, e questa è la prima caratteristica fondamentale della nostra innovazione, è che produciamo il nostro media filtrante. Quindi queste particelle di Argento sono praticamente embedded nella nanofibra sintetica, quindi prima caratteristica differenziale che ha il filtro rispetto alla concorrenza è che dura assolutamente di più la proprietà antimicrobica. Una seconda caratteristica fondamentale di Ufi Filters Argentium è il fatto che abbiamo fatto testare le performance a un laboratorio esterno tedesco certificato secondo le ISO in essere, nello specifico la 11155.1, che ci certifica in modo assoluto e inequivocabile il fatto che il nostro media filtrante abbatte il 98,5% dei PM 2.5. Il filtro abitacolo deve e diventerà sempre più importante nella vendita perché è il primo vero filtro B2C, è la prima volta che qua non ci si rivolge semplicemente alla vettura e alla cura della vettura, ma anche alla cura della persona e di quello che respiriamo. Terza novità fondamentale rispetto a tutti i prodotti della concorrenza abbiamo pensato ai nostri clienti, quindi ai distributori aftermarket. Ufi Filters Argentium andrà a rimpiazzare la gamma esistente di filtri abitacolo e nello stesso tempo aumenteremo la qualità, quindi il nostro media filtrante prodotto in Italia, quindi abbiamo un media filtrante made in Italy, brevettato, esclusivo di Ufi Filters, andrà a sostituire i media filtranti in essere senza nessun tipo di complicazione per i distributori. Loro si troveranno a ordinare lo stesso codice con la stessa gamma ad una qualità più alta e rimarremo anche competitivi. Una delle novità ulteriori che abbiamo qui a Autopromotech Bologna sono proprio i cataloghi aftermarket per i due brand Ufi Filters e Sofima Filter e la novità principale è l'introduzione di oltre 200 riferimenti nuovi con il quale la gamma per ogni singolo brand arriverà a 3000 codici attivi. Ma la cosa più importante con un vantaggio differenziale rispetto ai competitor è che abbiamo ben 29 riferimenti, direttamente dal nostro UI i nostri distributori potranno avere in anteprima nel mercato a marchio Ufi Filters e Sofima Filter. A noi importa quello che voi respirate. Questo è lo slogan del nuovo spot di Ufi Filters.